Per la giornata di oggi, martedì 25 giugno, siete su Notizia Non Plica e qui con me Loredana per leggervi alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato. Parmigiano Reggiano annuncia le iniziative sulle promozioni e rafforzamento per la tutela degli Stati Uniti d'America. Sempre gli Stati Uniti, Trump annuncia di aver scelto il vicepresidente Faro del Quilinale sull'autonomia sotto attento esame norme e copertue. Pirateria audiovisiva, persi 2 miliardi di euro di fatturato made in Italy, solo a parole il magro bilancio di Urso. Questo e molto altro potete trovare nel nostro portale di informazioni. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento nella nostra prossima mini rassegna. Loredana